Questo è sempre l'Oceano Atlantico Mar del Sur argentino, c'è bassa marea e quindi siamo su una barca dismessa usata come mirador di uccelli e qua abbiamo sempre la coca cola questa multinazionale che sta ammazzando il mondo tutta colpa della coca e da qui si può ammirare il mare